Non ha ritrovato la via del successo? Ora sono quattro gli incontri consecutivi senza vittoria per il Cerniola. Nello 0-0 interno del Monterisi contro il Taranto, capolista virtuale dell'aggruppamento, ha ritrovato però la voglia di lottare e la giusta dose di grinta, caratteristica fondamentale quest'ultima per fare risultato nel girone H di Serie D. Michele Pazienza, il tecnico Deleofantini, è soddisfatto tutta un'altra storia rispetto alla scialba prestazione del turno a infrasettimanale con il Fasano. E' questa la strada che dobbiamo continuare a percorrere, loro lo sanno benissimo, bisogna pedalare, bisogna lavorare quotidianamente perché solo lavorando ogni giorno e nel quotidiano riesci a crescere, riesci a migliorare, riesci a mantenere nella condizione l'attenzione che ci vuole per 95 minuti, soprattutto in questo campionato dove gli episodi a sfavore sono dietro l'angolo e bisogna portarli sempre a proprio favore per fare i punti, perché poi alla fine contano quelli e bisogna essere sempre attenti e rimanere sul pezzo. Il Cerignola è tornato così a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive prima di Fasano, era arrivata la battuta d'arresto interna contro la Versa e con il Taranto, protagonista della lotta per la promozione tra professionisti, i punti potevano essere anche tre. Il minutaggio fatto in superiorità numerica non era altissimo ma secondo me sufficiente per provare a fare un gol, ci abbiamo provato anche mettendo una punta in più e i ragazzi probabilmente per quello che hanno prodotto meritavano un gol, non ci siamo riusciti, ci dispiace e solo per quello ci potrebbe essere rammarico. Nota positiva, ha ritrovato convinzione nei propri mezzi il Cerignola, ora per chiudere il cerchio è fondamentale ritrovare anche e soprattutto il feeling con i tre punti, possibilmente già domenica prossima in trasferta nel derby contro il Nardò al Giovanni Paolo II, anche perché la classifica non consente di dormire sonni tranquilli alla squadra di Michele Pazienza.